La prima parte come tante volte con un gruppo di ragazzi molto giovani, una prima parte appunto per ritrovare confidenza dopo tanti mesi, l'ultima volta che ci siamo ritrovati qua c'erano i nostri tifosi che applaudivano la tua squadra per una grande stagione terminata per la planitazione Sì sì, come direttore all'inizio della domanda si riparte con entusiasmo del fatto che è un gruppo molto giovane che inizia questa attività di pre-season, è un entusiasmo ancora doppio, sia perché per loro è un momento importante e un'occasione importante, sia perché anche lo staff tecnico ha possibilità di provare cose che poi durante l'anno saremo fatica a provare perché giocando sempre, insomma, quest'anno si allenerà poco, si giocherà molto e quindi è un periodo veramente da affrontare con grande carica e vedere insomma anche da tutti i ragazzi al di là di quelli che sono già inseriti in prima squadra, quelli che poi ci potranno essere utili in caso di qualche riflessione, di qualche giocatore per la Serie A Grazie! Grazie! Grazie!